Ciao, faccia da partenza. Direi che è fondamentale evitare le facce. Ma non vengono più patti. Qui la sala d'aspetto. Siamo zia Spielberg. Andiamo a beccare il sorcio. Ehi Alberto. Alberto, fai ciao a tutti. Di un po' che cosa stai vedendo tu. Belli. Vieni. Belli? Quello lì ti piace? No. Oh, ciao. Ecco, fine. Ecco il nostro aereo. Vediamo se si riesce a prendere il laterale. La scritta. Ecco. Vediamo un po' se zoom. Facciamo se zoom. Così. Wow, US Airways. Eccoci qua. Basta zoom. Ecco il nostro passeggero preferito. Wow. Chi è lì? Dove vai? Cattivone. Ehi, sei offeso? Allora, non riprendo a te, guarda. Prendo qui. Guarda che bello, l'albero di Natale. Ah. Hai visto? Ok, torniamo di là. Alberto. Fai cucù. Alberto, fatti vedere. E si è incastrato? E si è incastrato? Perché si è rotto. E adesso ci mandano gli albergo. Ecco il fippino incazzato. Eccoci nella reception degli albergo che ci hanno dato per stanotte. Domina in. Non so di che paese. I ragazzi fanno il check-in. Eccoli soddisfatti della loro scelta. Notate la hall con piramide del Louvre. Salotino. Ascensore con un netto disperato. Eccoci qui all'aeroporto di Francoforte. Il Filippini gira. Prego ammirare le fantastiche decorazioni natalizie dell'aeroporto di Frankfurt. Siamo per partire. Quello è il nostro volo. Zoomata. Filadelfia. 12.05. Ancora decorazioni. Del banco della US. Se diciamo a lei dall'altra. Eh? Si è liberata dall'altra? No. Eh ma c'è gente davanti. Eccoci qua. Passeggeri soddisfatti. Signorina che parla italiano. Dov'è la mia family? Eccoli qua. Eh oh. Palle zia. A bello di nonno. Sempre il boccone spalangato. Ti vedo, sa? Ti nascondi. Ti zoomo. È stata una signora che c'è il peniente. Alberto spulcia il suo babbo. Deve andare. Eccoci qui. All'epcot. Primo parco che visitiamo. Ecco i nostri baldi. Oggi abbiamo fatto l'aspesona americana con un sacco di schifezze. E adesso andiamo al parco. Ciao. Mi sta a toccato. Mi balla tutto? Mi balla la ripresa. Non mi toccate. Ecco. Hai capito? Sì. Lo stanno qui i due? Sì, ho il partito. La member of my family. Non controllo. La stessa buzz. Stessi capelli. Se diamo l'uguale. Che bell'albero di Natale. Che c'è, ecco. Ma sopra non ci si mette la stessa. Vediamo se riesco a riprendere un tizio che conosco. Alberto. Alberto, andiamo a mangiare. Venezia. Venezia. Sento il rumore di carrello. Qualcuno mi sta ad ammazzare. Ripassiamo sul lago. Ecco a Michele. Questo castello viene dal Canada.